È stato come un padre perché sono arrivato qui, che ero ragazzo, ancora avevo 22 anni, si può dire i tempi sono cambiati a quell'età là, a quei tempi c'era ancora ragazzini, adesso ci sono già due uomini, per me è anche un onore venire a trovarlo, adesso è cambiato tutto il mondo del calcio, stamattina leggevo il giornale, io dico che la colpa è di Guaraldi, non so se aveva letto in prima pagina, la colpa è di tutti, principalmente era di Guaraldi perché comanda lui, è vero, però speriamo bene, è importante che si mettono a posto e che rimangono in B per vincerlo poi. Mi dà un ricordo di quel Bologna di 50 anni fa? Il ricordo è bellissimo perché abbiamo battuto, mica una squadra, abbiamo battuto i campioni d'Europa perché avevano vinto la Coppa dei Campioni loro, una settimana prima, è stata una giornata splendida, certamente non è come adesso, noi siamo stati in ritiro alla pregene, eravamo là da soli così, abbiamo mangiato normalmente, adesso si va in giro per la città, corriandoli, fuochi d'artificio, però si ricordano più adesso di allora.